lunedì 18 marzo 2019 bentornati su cper tv il 19.4 ormai è un ricordo manca ancora solo una settimana alla fine degli open nel frattempo noi ci alleniamo come al solito e oggi facciamo tre round four time con 500 metri raw 15 straight pull up e 30 push up dopodiché non è finita ma nel tempo che ci rimane per arrivare in fondo alla classe facciamo una decina di minuti di pratica di è tutto per oggi ci vediamo domani per un'altra puntata di cper tv